Musica Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale come avrete letto dal titolo oggi andremo a realizzare 4 sim ispirate ad alcune emoji in realtà questo è il secondo video di questa serie perché penso un paio di mesi fa ho realizzato altre 4 emoji che sono state le emoji con gli occhi a cuoricino le emoji che ride con le lacrime però quella dritta perché poi c'è anche quella lì in obliquo le emoji arrabbiata arancione e infine le emoji che vomita ecco sì per questo video invece ho deciso di realizzare in ordine le emoji con il diavoletto quindi quella lì viola quella lì che fa la linguaccia però quella con la lingua verde quindi che fa riferimento ai soldi le emoji innamorata con i tre cuoricini rossi intorno e infine quella tutta celeste che ha freddo ah raga a tal proposito avete visto che a fine estate usciranno le nuove emoji raga sono bellissime magari adesso vi metto una foto e bloccate il video in modo che potete guardarle per bene e io vi dico già che le mie due preferite per il momento sono quella con la mano che fa il classico gesto italiano e la bacchetta magica allora raga normalmente in questi video in cui non posso darvi info su ciò che stiamo realizzando parlo un po' così random dandovi varie informazioni su di me sul canale video e quant'altro quindi direi di chiacchierare un po' se siete su tiktok vi ricordo di seguirmi perché ogni settimana pubblico anche lì vari video questo qui è il mio profilo mi trovate con il nickname life is fashion tutto attaccato ne troverete anche un altro ma con il 18 finale ma non calcolatelo perché praticamente quello mio vecchio e non ci ho mai più caricato da anni quindi il mio reale è quello con questa foto profilo ed è assurdo perché sono iscritta su tiktok da tre mesi e siamo già quasi 5000 raga su instagram invece siamo 6000 e qualcosa e cresciamo sempre di più quindi se vi va a seguirmi anche lì mi trovate con il nickname life.is.fashion18 purtroppo non ho potuto mettere semplicemente life is fashion perché era già utilizzato vabbè raga poi per non parlare di youtube che è il mio social preferito che mi dà in assoluto più soddisfazioni e che amo alla follia il traguardo dei 25.000 è stato pazzesco ed ora andiamo verso il prossimo ovvero 30.000 stiamo diventando una famiglia magica sempre più numerosa e vi sono super 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 mega grata per questo allora raga ultimamente mi state chiedendo in tantissimi quando farò la prossima live sto cercando di organizzarmi al meglio questo mese non penso sia possibile perché sono straimpegnata ma da marzo ci saranno 1-2 volte al mese senza problemi invece per quanto riguarda l'argomento video mondo magico e legge dell'attrazione sono super 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 contenta che vi stiano interessando questi video e preparatevi perché il video di domani sarà pazzesco e allo stesso tempo magico e creativo e sicuramente vi aiuterà tantissimo no raga non potete capire io non vedo l'ora di farvi scoprire tutto ci tengo tantissimo a questi argomenti e soprattutto mi piace trasmettervi positività ed aiutarvi a realizzare i vostri sogni comunque raga io adesso direi di lasciarvi a qualche minutino di musica sicuramente in questo video saremo in chat in live quindi sarà una premiere quindi intanto mentre ascoltiamo la musica chiacchieriamo e ci rivediamo al minuto esatto che comparirà tra pochissimo sullo schermo alla vostra destra pronti? 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 4, 2, via! 5, via! 5, via! 2, via! 3, via! ah 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 A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E che voti mi date in generale? Io vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!